La Fidelisandria continua a non Vincere e pareggia in casa al Degli Ulivi in un sentito derby contro il Biceglie per 0-0 Bene il Lecce che invece vince a Siracusa e mantiene la vetta Male il Monopoli che perde invece in casa contro il Rende Nel dettaglio i risultati e la classifica del 14esimo turno Fondi Sicula Leonzio 2-1 Matera Trapani 3-3 A Monopoli il Rende batte il Monopoli 1-0 A Siracusa il Lecce batte il Siracusa 3-1 Cosenza Juve Stabia 1-0 Fidelisandria Biceglie 0-0 Casertana Paganese 3-0 Virtus Francavilla Agragas 2-0 Catania Catanzaro 1-0 Turno di riposo per la Regina In classifica guida il Lecce con 33 punti Catania 28-25 Siracusa 23-23 Monopoli e Virtus Francavilla 22-20 Rende 20-18 Juve Stabia e Regina 17 Biceglie 16-16 Catanzaro e Cosenza 15-15 Fondi Sicula Leonzio 13-13 Casertana 12-12 Fidelisandria e Paganese 10-10 Chiude l'Akragas con 9 punti I servizi di Fidelisandria Biceglie Siracusa Lecce Monopoli Rende, Virtus Francavilla Acragas e Matera Trapani A cura di Antonio Porro e Davide Suriano Manca solo il gol in una gara spumeggiante Che tuttavia dice che la Fidelisandria Non vince ancora dopo 13 gare E resta nei bassi fondi della graduatoria Il Biceglie invece prosegue Nella buona striscia e porta a casa Un punto con qualche rammarico Tante assenze nella Fidelis Con il tecnico Loseto A scegliere di tornare al 4-3-3 E Piccini trasferito in difesa come terzino destro In attacco spazio Anadarevic Dal primo minuto per Zavettieri Invece modulo speculare D'attacco affidato al trio Partipilo Giovanovic e Dazzi Parte subito bene la formazione di casa Che dopo tre giri di lancette Trova la prima azione pericolosa con Curcio Che batte una punizione dei 25 metri Potente e ben respinta da Crispino con i pugni 13 minuti ed è ancora pericolo per la portaospite Curcio da sinistra in becca Perfettamente scaringella Che è poco convinto di testa Con la palla a lato La sfera resta tra i piedi della Fidelis Che tuttavia punge nuovamente solo alla mezz'ora Quando una punizione di quinto Diventa un assist preciso per l'attanzio Abile a colpire di testa Ma alto di poco Tre minuti dopo è Anadarevic A provare un cross da destra Che diventa un tiro con Crispino A rifugiarsi in angolo Ma il Biceglie guadagna campo E dal 42esimo arriva l'occasionissima Con un tiro velenoso di Dancora Che Mauro Antonio non trattiene Ma la sfera finisce lentamente in angolo Ribaltamento di fronte E l'attanzio prova Con la punta da posizione defilata Ma Crispino ancora una volta Salva tutto con il piede Pronti via nella ripresa E tra la contestazione Dei tifosi andriesi In tribuna Verso i nuovi possibili soci di Montemurro Arriva l'occasionissima Per la Fidelis Dopo 5 minuti di gioco Azione sviluppata sulla destra E palla per Nadarevic Dopo una corta respinta Della difesa ospite Con porta sguarnita E tiro facile Facile Deviato in angolo La gara si infiamma E dal settimo Arriva la replica del Biceglie Parti Pilo Parte da destra E calcia Con la palla deviata Azzi la rimette al centro Ma Jovanovic va fuori tempo E la difesa azzurra La respinge Un solo giro di lancette Nadarevic prova a riscattarsi Con un servizio perfetto Da sinistra per l'attanzio Che nel cuore dell'area di rigore Calcia Ma si fa murare il tiro Dalla difesa di casa All'undicesimo Nuovamente ospiti pericolosi Sempre con Parti Pilo Che in contropiede Dopo un errore di Curcio Trova il tiro Deviato e distinto Da Mauro Antonio Sul proseguo Lo stesso numero 7 Bicegliese Calcia a lato Ma gli ospiti Pendono dalle giocate Di Parti Pilo E dal ventiduesimo Su calcio di punizione Mette i brividi Ai tifosi di casa Il Bicegliese È padrone del campo E dal ventisettesimo Arriva l'occasione più importante Azione tutta di prima Sino a liberare Al tiro risolo Completamente solo Ma è decisivo L'intervento di Mauro Antonio Che devia in angolo Estremo difensore di casa Che diventa nuovamente fondamentale Al trentasettesimo Quando il Bicegliese In contropiede Manda tutto solo Azzi Da sinistra A calciare a rete Ma Mauro Antonio Salva tutto Non c'è più tempo Ed i fischi Degli Ulivi Chiudono un derby Tornato tra i professionisti Dopo un trentennio A fine gara Un summit Della dirigenza Andriese Direttamente nel terreno di gioco Con il tecnico Valeriano Loseto La sua posizione Resta in bilico Dopo 13 gare Nessun successo E classifica pericolante Per il Bicelli Invece ampia fiducia A Zavettieri Che recrimina Di fatto Per due punti persi Alla fine Io devo commentare Una partita Che è stata Sotto l'aspetto Della corsa Dell'intensità Molto elevata Ci è mancato Ancora una volta Il gol Non abbiamo concretizzato Due niti di occasione Abbiamo avuto anche La possibilità di perdere È stato bravo Mauro Antonio È stata una partita Tutto sommata Giocata a viso aperto Dispiace Perché Dispiace Per quello che è Ora l'ambiente Perché alla fine Non Non riusciamo A regalare Una vittoria A tutto l'ambiente Però bisogna anche Capire che L'Andrea gioca Contro il Lecce Con gli stessi elementi Non è una scusa Ma è un dato di fatto Avevo in tribuna Cinque elementi Della Della formazione Non ho avuto La possibilità Di poter Anche far rifiatare Qualcuno Però alla fine Devo accettare Questo Quest'ennesimo pareggio Partiamo da una domanda Facile facile Due punti persi Direi di sì Direi di sì Lo dico con un pizzico Di rammarico Perché Forse i ragazzi Lo meritavano Anzi L'avrebbero meritato Però D'altra parte Sono contento Perché abbiamo fatto Una prestazione Importante Sotto tutti i punti di vista E' chiaro Che partite come queste Vanno vinte Dobbiamo migliorare Sicuramente Negli ultimi 16 metri Nella stoccata finale Però L'invito che faccio I ragazzi E' quello di Continuare a lavorare Come stanno facendo Di crescere Individualmente Come squadra Poi ogni partita Sarà diversa dall'altra Magari Ci saranno altre partite Che tireremo Una volta e mezza In porta E magari faremo gol Però Diciamo che Siamo contenti Della prestazione Secondo stop Consecutivo Per il Monopoli Ancora una volta Di misura Dopo Catanzaro I pulisi cadono Sul campo amico Del Simone Veneziani Con il risultato Di 0 a 1 Contro un Rende Desideroso Di archiviare La brutta sconfitta Subita 4 a 0 Contro il Trapani Mister Tangora Scele gli stessi Undici Della trasferta calabrese Ad eccezione di Paolucci Rimasto in panchina A vantaggio di Genchi In campo Sin dall'inizio Il primo squillo Arriva dagli ospiti Al quindicesimo Sugli sviluppi Di un calcio d'angolo Blase prova Una potente conclusione Col Mancino Una fuori aria Pala deviata Prima da Scoppa Poi da Rossini Ed è traversa Dopo il tocco Di Bifulco Che salva la sua porta Libra in angolo Dal corner che segue Porcaro viene lasciato Tutto solo in aria Ma di testa Non riesce a centrare La porta Da pochi passi Ancora rende Al 29esimo Con una percussione Di Godano Che libera il tiro Ancora una volta Blase Che però Manca lo specchio Della porta La prima risposta Del Monopoli Arriva solo Nella ripresa Nessuna novità In campo Gli stessi 22 Del primo tempo Il copione Però si ripete Al secondo Ancora Il rende Pericoloso Con Rossini Che sfrutta Un filtrante Di Goretta Destro Rasoterra Che però Termina sul fondo A pochi centimetri Dal palo lontano Secondo l'arbitro Con deviazione Della difesa Del Monopoli E il preludio Al vantaggio Ospite Dal corner Che segue Cross Che arriva Sulla testa Di Germinio Di Fulco Rispinge Ma nulla può Sul tabin Vincente Di Rossini Che in caduta Insacca sotto La traversa Dopo tre minuti Della ripresa Rende uno Monopoli zero Al cinquantatresimo Prova a dare la carica Ai suoi genchi Con una punizione violenta Deviate in angolo Da forte Al settantunesimo Donna Rum Ruba palla Godano Si invuola Sull'auto di sinistra Palla nel mezzo Ma l'attacco Del Monopoli Non riesce a trovare La deviazione decisiva All'ottantasettesimo Ancora Padroni di casa In avanti Con Sounas Che invita al tiro Paolucci Ma la sfera Termina ben altra Sopra la traversa E l'ultima occasione Fischio finale Il Rende batte Il Monopoli Zero a uno Abbiamo avuto Meno spazi A disposizione Siamo stati Meno lucidi Ecco nella Conclusione Nella finalizzazione Diciamo che Comunque A livello Complessivo La squadra Tutto lì si può dire Tranne che non si sia impegnata Non ha cercato Comunque Di Fare gol Però ripeto Alla fine Non mi sento Ecco di Di Dover Di dover Dire che Insomma È stato fatto Un passo indietro Così Insomma La prestazione Non è stata così Negativa Come il risultato Può dire È chiaro che Veniamo da due sconfitte C'è poco Da C'è poco Da dire Ma C'è C'è Comunque Da Da fare il solito Dobbiamo Dobbiamo riprendere Ad allenarci Già da martedì Preparandoci Per il derby Che ci aspetta E cercando di riscattarci Da queste due Sconfitte Prova di forza Della capolista Lecce Sul campo Del Siracusa Quarta forza Del campionato La formazione Del tecnico Fabio Liverani Espugna Allo stadio De Simone Con il punteggio Di 3 a 1 Dopo una gara Praticamente Dominata dai salentini È già chiusa Nella prima frazione Di gioco Partenza Sprint De Giallorossi Che al quindicesimo Trovano il vantaggio Azione insistita In area di rigore Conclusione Di Piazza Respinta Della difesa Retusea Ma sul pallone Si piova un barmellino Che trafigge Tomei Il Siracusa Cavalò tra il diciassettesimo E il diciottesimo Ma anche il pari Con le occasioni Di Scardino E Giordano Mentre il Lecce Cinico E spietato Troverà doppio Al ventiquattresimo Zonnev Lancia Di Piazza In contropiede Che tutto solo Salta Tomei E deposita La palla In rete Gara virtualmente Chiusa È solo un prodigioso Intervento Dall'estremo Difensore Di casa Nega la gioia Del gol A Torromino A otto minuti Dal riposo Nella ripresa Continua il dominio Giallorosso E al 64esimo Arriva alla rete Capolavoro Di Zonnev Che frutta Gli applausi Di tutto lo stadio Match in archivio E il colpo di testa Vincente Al 72esimo Di Catania Rende meno amara La sconfitta Per i siciliani Credo che è una squadra Che ha qualche buona individualità Credo che l'1-2 Da parte della squadra Gli ha fatto perdere Un po' di sicurezza Un po' di tranquillità Diciamo che Verso la fine Giocando con questi palloni lunghi Noi avendo comunque Una buona difesa Fisicamente Non ci ha creato Tantissimi problemi Credo che abbiamo preso gol Su una disattenzione Da palla da fermo Dove potremmo fare meglio Però credo che oggi Loro siano partiti Benino Poi dopo L'1-2 Nostro Gli ha tolto Un po' di Di certezze E quindi poi diventa Una partita difficile Con noi In questo campionato Sia con noi Che chiunque Andare con il doppio svantaggio Non è una partita facile Da recuperare Emozioni Sei gol E tanti applausi Per il Matera Che nel match interno Del Franco Salerno Contro il Trapani Va sotto 3-0 E reagguanta il pari Al 94esimo Termina 3-3 Uno dei big match Di giornata Tanti rimpianti Per il Trapani Che perde nuovamente Terreno Dalla capolista Lecce Bicchiere mezzo pieno Per il team di Auteri Che però non riesce Ancora a decollare 1-2 Micidiale Della formazione siciliana Dopo i primi 15 minuti Di equilibrio Al 16esimo Perfetta incornata Su azione d'angolo Di Silvestri E 5 minuti più tardi E Maracchi Nuovamente di testa A sfruttare L'assist Di evacuo Al 38esimo E lo stesso evacuo A siglare lo 0-3 Sugli sviluppi Di un calcio di punizione E a chiudere Virtualmente Il match Ma il Matera Ha la forza Di rialzarsi E prima del riposo Riapre i giochi Al 41esimo Accorcia le distanze Urso Su azione da corner Mentre in pieno recupero Giovinco Trasforma un calcio Di rigore Concesso per fallo Su Battista Nella ripresa Altalena di emozioni Con occasioni Da una parte E dall'altra Ma al 94esimo Il direttore di gara Concede il secondo Calcio di rigore Di giornata Al Matera Per un fallo Su Sartore Sul dischetto Ci va ancora Giovinco Che firma il definitivo 3-3 Per la gioia Dei tifusi Lucani E la disperazione Del team di Calori Il posticipo Domenicale Della 14esima giornata Consegna altri Tre punti importanti Per un piazzamento Playoff Alla Virtus Francavilla Che al Fanuzzi Di Brindisi Supera 2-0 La Cragas Ormai Fanalino di coda Solitario Sono i Salentini A comandare Nella prima frazione Saraniti Fa le prove Del gol Al 28esimo Vono Si rifugia in angolo Ma l'attaccante Si rifà al 42esimo Firmando di testa Su calcio d'angolo Il vantaggio Prima del riposo Nella ripresa Il team siciliano Prova a reagire Ma la Virtus Nonostante l'espulsione Di Foloruncio Chiude i conti Al 95esimo Con Madonia Che incontro piede In saccavono Con un perfetto Diagonale Rassoterra Un'altra grande Iniezione di fiducia Per la formazione Allenata da Gaetano D'Agostino Che sale al quinto posto In classifica In compagnia del Monopoli Passiamo alla serie Di dove Nella dodicesima giornata Continua la marcia Del Potenza Che vince Ad Apricena Contro l'alto Tavoliere Per 2-0 E mantiene Sei punti Di vantaggio Su un terzetto Che continua Ad inseguire Si tratta Del Team Altamura Del Cerignola E della Cavese Cavese in particolare Che vince Sul terreno di gioco Del Gravina Vediamo i risultati E la classifica Del dodicesimo turno Alto Tavoliere Potenza Calcio 0-2 Picerno Manfredonia 4-1 Pomigliano Team Altamura 0-1 Francavilla Turris 2-0 Frattese Audace Cerignola 0-2 Gravina Cavese 2-3 Nardò Città Di Gragnano 1-0 Sarnese Aversa Normanna 0-1 Sporting Fulgor Taranto 2-3 In classifica Guida Come detto Il Potenza Con 34 punti Cerignola Team Altamura Cavese 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 Taranto 24 Picerno 21 Gravina 19 Gragnano 14 Pomigliano Nardò Sarnese 13 Francavilla 10 Aversa Normanna Frattese Sporting Fulgor 9 Turris 8 Manfredonia 5 Chiude L'Alto Tavoliere Con 3 punti I servizi Gravina Cavese Alto Tavoliere Potenza Nardò Gragnano E Pomigliano Altamura Continua La marcia Inarrestabile Del Potenza Calcio Che sul campo Del Madre Pietra Stadium Di Apricena Batte L'Alto Tavoliere Con il punteggio Di 0 A2 Ai Rosso Blu È sufficiente Segnare Un gol Per tempo Per ribadire Il proprio Primato In classifica L'Alto Tavoliere È attento Sin dall'inizio E non concede Spazio Al Potenza In difficoltà Centrocampo A causa Della compattezza Dimostrata Dalla squadra Locale L'unica Occasione Degna Di nota Che tenta subito Una conclusione Di destro Alta Sopra La traversa Il vantaggio Del Potenza Si fa tendere Sino al 39esimo L'autore Del gol È il solito Carlos Franza Che dopo Una combinazione Con Sicari Lascia partire Un tiro A sorpresa Dal limite Dell'aria La palla Supera Longobardi Ed entra Beffardi In rete Alto Tavoliere 0 Potenza 1 Nella ripresa I Rosso Blu Gestiscono Bene la partita Nonostante Una buona Partenza Da parte Dei padroni Di casa Al 17esimo Florio Si ritrova La palla In aria E tenta Una conclusione Ribattuta Dalla difesa Ospite E una Delle poche Occasioni Capitate Giallorossi In tutta La partita Alto Tavoliere Generoso Ma che Nel suo Momento Migliore Subisce Il raddoppio Del Potenza Al 33esimo Franza Serve la corrente Guadalupe Che entra In aria E lascia Partire Un bolide Che Si insacca In rete Partita Archiviata Dagli uomini Di ragno Con uno splendido Gol Che sigla Lo 0-2 A Madrepieta Stadium Il Potenza Vince E continua La sua Corsa In vetta La classifica L'eccellente Caratura Della Cavese La buona prova Dai Gravina Che però Non basta I murgiani Per ottenere Un risultato Positivo E tornare A muovere La classifica Vincono 3-2 I campani Sul sintetico Del vicino Sesta Affermazione Consecutiva Per la formazione Allenata Da Dino Bitetto Che conferma Così la seconda Posizione In graduatoria Insieme a Cerignola E dal Tamura L'undici Di Antonio De Leonardis In attesa Di ricevere I tre punti A tavolino Per il derby Con il Manfredonia Si allontana Dal treno Delle big Del girone H Partita Scoppiettante Ricca di emozioni Si dalle battute Iniziali Il parziale Cambia Al quarto d'ora Massimo Colpisce bene Di testa E porta in vantaggio La Cavese Provano a scuotersi In fretta I padroni di casa Salatino Entrato In campo Dopo 6 minuti Al posto Dell'infortunato Picci Sfrutta il dialogo Prima della mezz'ora La parità Ad ogni modo Dura un paio di minuti Lo scatenato Massimo Sfrutta Un'indecisione Dei murgiani Su un falo laterale E trova Il guizzo Che sorprende L'oliva Doppietta Per il numero 8 Della Cavese E soprattutto 2 a 1 Per i campani Risultato Che resta Poi congelato Sino a metà gara La ripresa Si apre Con gli ospiti Che sfiorano Di pochi centimetri Il tris con logo luso Palla sul fondo Di un soffio Reagisce Il gravina Balzano Ci prova Senza esiti positivi Della lunga distanza Centra lo specchio Della porta Invece La sventola Con cui Inbida Perfeziona L'aggancio A metà Della seconda frazione Fioccano Le emozioni E poco dopo La mezz'ora La Cavese Torna In vantaggio Con Martigniello Inutili Le proteste Di Giallo Blu Per una presunta Posizione irregolare Lievita Il nervosismo A farne le spese Il capitano Del gravina Anaclerio Espolso Per qualche parola Di troppo Rivolta All'arbitro Rosso In seguito Per reciproche Scorrettezze Anche ai danni Di Chiara Di A E Martinello Il gravina In nove uomini Contro dieci Ci prova Sino al termine E allo scadere Sfiora il terzo Aggancio Questa volta Però bisogno Si oppone Egregiamente Alla botta Alla botta Di Leoretti E blinda In maniera definitiva Il successo Dei suoi Sconfitta E rimpianti Invece per il gravina Al secondo KO Interno consecutivo 6 per 3 Uguale 18 Continua la Sontuosa Sequenza Di vittorie Per il team Altamura Che avvolla Piccolo comune Dell'area Metropolitana Di Napoli Batte con il Punteggio Di 1 a 0 Il Pomigliano E conferma La seconda posizione In classifica Insieme a Cerignola E Cavese Sono sempre 6 i punti Di ritardo Dalla capolista Potenza Sono 6 anche Le vittorie Dei Murgiani Da quando Ciro Ginestra Ha preso il posto In panchina Di Gigi Panarelli Pugliesi Pericolosi Già nel corso Del primo tempo Ma il poco Cinismo Sottoporta E gli interventi Del portiere Campano Blindano Lo 0 a 0 Sino all'intervallo Il gol Che decide La contesa Arriva a metà Della seconda frazione Lo realizza Per l'altamura Santaniello Sugli sviluppi Di un'azione Partita da calcio D'angolo Una sola rete Basta e avanza Anche al Nardò Per avere ragione Al Giovanni Paolo Secondo Del Gragnano La mette a segno A Godirin Al ventesimo Del secondo tempo A completamento Di una bella azione Individuale Decimo turno In eccellenza Dove Gallipoli E Vitonto Restano In vetta Braccetto In particolare Il Bitonto Batte la Vigor Trani In quello che è stato Il big match Della decima giornata Prime vittorie In campionato Anche per Barlette Unione calcio Biceglie Vediamo nel dettaglio I risultati E la classifica E la classifica del decimo turno Atletico Aradeo Omnia Bitonto 0 a 1 Barletta Novoli 2 a 1 Bitonto Vigor Trani 3 a 0 Fasano Otranto 1 a 1 Gallipoli Atletico Vieste 2 a 1 Molfetta Avetrana 1 a 1 Pro Italia Galatina Corato 2 a 1 Unione calcio Biceglie Casarano 2 a 1 In classifica guidano come detto Gallipoli e Bitonto con 22 punti Fasano Avetrana 19 Vigor Trani 18 Casarano 17 Omnia Bitonto Molfetta 16 Corato 12 Otranto 11 Galatina 9 Atletico Vieste Novoli 8 Barletta 7 Unione calcio Biceglie 6 Atletico Aradeo 4 I servizi di Bitonto Vigor Trani Barletta Novoli Molfetta Avetrana E Fasano Otranto a cura dei colleghi Antonio Porro Mario Borracino Francesco Abruzzese Ormai non è una sorpresa ma sempre di più una conferma la capolista Bitonto rifila un pesante 3-0 la Vigor Trani nel big match della decima giornata quella del Città degli Ulivi è stata una gara molto equilibrata nonostante il risultato in favore della formazione di Gino Zinfollino prestazione comunque da dimenticare in fretta per il team di Pizzulli che al fischio finale ha avuto un confronto con la tifoseria delusa per la scopola rimediata nella prima parte di gara la Vigor si fa preferire ai neroverdi ma uno straordinario a Dario nega la gioia del gol prima d'arena e poi a Faccini la gara si sblocca nel finale di prima frazione in pieno recupero incursione dalla sinistra di Manzari che in solitaria entra in area di rigore e batte Sansona indovinando l'angolo lontano una brutta mazzata per la formazione tranese che rientra dagli spogliatoi con il morale sotto i tacchetti ad approfittarne naturalmente la squadra di casa che raddoppia il 56esimo con Terrone che sfrutta un disimpegno della difesa bianco-azzurra e insacca alle spalle di Sansonna match in mano alla formazione di Gino Zinfolino e nervosismo alle stelle per la vigora farne le spese la vopa che rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in dieci all'86esimo il Bitonto chiude la pratica con il triste il giovane Terrevoli abile a finalizzare con un preciso piattone l'assist di Bonasia finisce con la festa del Bitonto che resta in vetta in compagnia del Gallipoli giornata da dimenticare per la vigortrania la quale servirà una pronta reazione nel prossimo scontro diretto casalingo contro il Fasano un punto a testa non fa male a nessuno al comunale di Terrizzi va di scena la decima giornata del campionato di eccellenza pugliese con la sfida tra il Molfetta allenato da Pino Giusto e alla vetrana guidato da Brana entrambe le compagini si trovano nelle zone nobili della classifica con i Tarantini che dopo la sconfitta della prima giornata contro la vigortrani sono usciti sempre indenni dal campo il tecnico dei padroni di casa schiere alla formazione titolare affidandosi al 4-3-3 con avanti facecchia al Brizio capocannoniere dei Biancorossi e il rientrante vitale mister Brani invece si affida in campo ad un 4-4-2 ordinato e consegna le chiavi del gioco a passiatori e cavalieri entrambi del 2000 la prima frazione è molto equilibrata le due squadre sono ben messe in campo ed è difficile trovare spazi in avanti la prima occasione del match arriva al 22esimo minuto da calcio di punizione con Dentamaro che si incarica della battuta il suo destro viene parato da Petrarca che devia il pallone sulla traversa 4 minuti più tardi la vetrana passa in vantaggio con passiatore che trova il pertugio in area di rigore e insacca la sfera dopo aver preso il palo interno la vetrana attacca ancora Cereseto si invole in area di rigore ma calcia malamente il Molfetta cerca di rendersi pericoloso nel primo tempo ci riesce solo su pala inattiva al 34esimo minuto si incarica del calcio di punizione sempre Dentamaro ma Petrarca respinge la sfera con i pugni al 40esimo Cappellini prova il tiro dalla distanza ma la sua conclusione finisce poco distante dal palo della porta le due squadre si recano negli spogliatoi sul punteggio di 1 a 0 per gli ospiti nella seconda metà di gioco il Molfetta preme sull'acceleratore per trovare il gol del pareggio ma al terzo minuto la vetrana sfiora il punto del raddoppio con Cereseto che in mezzo a rovesciata non inquadra bene la porta verso la mezz'ora Vitale riesce a smarcarsi dai difensori avversari provando il tiro a giro con la palla che esce di poco dalla porta il pareggio del Molfetta arriva nel finale Vitale lascia partire un destro dal limite dell'area di rigore che non lascia scampo a Petrarca i padroni di casa incominciano a credere nella vittoria con Mané che riceve palla da calcio di punizione battuto veloce prova la conclusione che viene messa in calcio d'angolo da Petrarca dal successivo corner al Brizio colpisce la palla di testa ma non inquadra lo specchio della porta finisce dunque 1 a 1 sul sintetico di Terlizzi il Molfetta è atteso giovedì dall'andata della semifinale della Coppa Italia di eccellenza contro la Vigortrani sconfitta oggi dalla capolista Bitonto mister dopo un primo tempo equilibrato nel secondo tempo avete cercato di attaccare e alla fine siete riusciti a trovare il gol le è piaciuta la prestazione dei suoi giocatori sì indubbiamente non ho davvero nulla da rimproverare abbiamo fatto probabilmente un unico errore sul gol dove non abbiamo dato una copertura sull'uscita del centrale però ci sta però la squadra ha reagito e soprattutto nel secondo tempo credo che sia stato un monologo abbiamo messo l'avversario nella metà campo e siamo riusciti solo a realizzare un gol però va bene così perché la prestazione della squadra mi ha soddisfatto mister oggi nel primo tempo si è vista una partita più organizzata squadre più tattiche mentre nel secondo tempo avete cercato sempre la ripartenza in contropiede sì il pareggio è giusto alla lunga il pareggio è giusto abbiamo subito il palleggio del Molfetta però la nostra forza la nostra forza come hai detto tu è proprio la ripartenza il primo tempo sull'1-0 sull'1-0 potevamo fare anche il secondo però hanno preso anche la la traversa su punizione il secondo tempo ci siamo schiacciati un po' troppo e poi è arrivato il gol di Vitale fine fine della maledizione stop ad un'assinenza che durava dall'inizio del campionato il Barletta batte di misura 2-1 il Novoli davanti al pubblico amico del Manzichi Apolin e al decimo tentativo utile centra la prima vittoria nell'eccellenza di Puglia decide intorno all'ora di gioco questa perla con il mancino di De Matteis che non lascia scampo alla ghezza il portiere dei Salentini Biancorossi scesi in campo in maglia verde più forti delle assenze la rossa e Milella sono squalificati Paolo Augelli Fiorentino e chi si sa infortunati Biancorossi con 4 juniores dal primo minuto Cristallo Ronzino Derco Letra Ore tutti 99 Biancorossi vicini al gol del vantaggio già dopo 2 minuti a solo di grumo assist per Traore che trova sulla sua strada una super risposta di laghezza poi i padroni di casa chiedono il rigore per un tocco proibito in aria sulla successiva conclusione di De Matteis ma l'arbitro lascia correre replica del Novoli punizione mancina di Potì blocca Cristallo tiro alto di Malagnino dalla parte opposta Dercole lancia in profondità Traore e Malaghezza è bravo a giocare d'anticipo tutto nei primi 10 minuti poi nella parte centrale della frazione inaugurale diminuisce l'intensità della partita che riprende quota nell'ultimo quarto d'ora manca meno di un minuto all'intervallo invece quando Traore servito da Rocca Ugelli viene trattenuto in aria da serio per l'arbitro è calcio di rigore dal dischetto si presenta Rocco Ugelli ma la sua conclusione colpisce il palo esterno e si perde sul fondo 0-0 dunque all'intervallo la ripresa si apre proprio con il gol del Barletta corner di Grieco e colpo di testa vincente del centrale difensivo Daniel Ola Biancorossi per la prima volta in vantaggio in questa stagione la gioia in ogni caso dura poco sul cross di Malagnino il palo evita l'autorrete allo stesso Ola ma il nuovo li pareggia ugualmente i conti con il tapin vincente di Coquen non si perdono d'animo i padroni di casa Grumo alza troppo la mila con il destro De Mateis invece si coordina in maniera impeccabile intorno all'ora di gioco e con una splendida traiettoria Mancina batte Laghezza Barletta di nuovo in vantaggio Barletta che per la prima volta in questa stagione va a segno due volte nella stessa partita non si accontentano gli uomini di Franco 5 Grumo in contropiede chiama la deviazione in corner Laghezza sullo successivo calcio d'angolo Rocca Ugelli non sa incidere di testa la replica del nuovo li sta tutta in questo colpo di testa di Potti sui sviluppi di un calcio di posizione bloccato da Cristallo poi di nuovo Barletta Mancino a giro di De Mateis salva schiavone nelle vicinanze della linea di porta conclusione di Rocca Ugelli e su per risposta del portiere ospite altra ripartenza in seguito non sfruttata da Grumo l'unica chance dei Salentini arriva in pieno recupero ma Sriani calcia in maniera imprecisa liberazione al triplice a fischio per i padroni di casa che salgono così a quota sette punti in classifica e ora possono ragionare in chiave futura con un briciolo di ottimismo in più fine di una maledizione mister Sì oggi ci voleva purtroppo siamo arrivati al decimo tentativo però credo abbiamo aspettato però abbiamo sfoderato un'ottima prestazione figlia sicuramente di tanto lavoro di tanta dedizione e oggi raccogliamo magari qualche frutto del lavoro svolto La partita Barletta in forte emergenza squalificati infortunati Rana che ha riuscito in settimana come l'avete preparata nonostante queste difficoltà in organico? Ma guardate è facile buttarsi giù durante la settimana non stare dietro al tecnico dopo nove giornate che non riesci a vincere invece i ragazzi mi hanno sempre seguito e continuano a farlo si applicano e quindi stanno sempre sul pezzo io ho detto i ragazzi stanno sul pezzo in più gli ho chiesto di buttare il cuore oltre l'ostacolo per cui credo che il lavoro costante più magari una prestazione emotiva forte ci abbia portato a questo risultato mister una partita complicata per voi che però siete riusciti ad un certo punto a riprenderla poi che cosa è successo? No una partita complicata sicuramente ci abbiamo messo del nostro a complicarla penso che il primo tempo abbiamo fatto anche abbastanza bene era una partita equilibrata tranne il calcio di rigore è veramente un episodio singolo poi l'avevamo anche ripresa sull'1-1 siamo mancati nel momento importante Beffardo pari casalingo del Fasano che domina ma viene raggiunto nei minuti finali da un ottantomai domo il tecnico la terza deve fare a meno dello squalificato amato e dell'infortunato di Lauro e allora in mezzo alla difesa con il rientrante Anglani ecco Zizi in porta l'esperto pellegrino in attacco Morga affiancato da Corvino e Amodio Serri finisce in tribuna per la rotazione degli over al dodicesimo Elotranto a creare il primo pericolo angolo di Mancarella Indirli viene lasciato solo dalla difesa fasanese ma il colpo di testa del difensore ospite è debole e para pellegrino al quattordicesimo Carroppo rinvia cortosi i piedi di ganci che tenta il tiro di prima intenzione ma fa buona guardia all'estremo difensore ospite al ventottesimo arriva la rete del Fasano Indirli sbaglia un rilancio con Morga che conquista palla resiste al ritorno di due difensori e da limite fa partire un tiro secco che si infila alla sinistra di Carroppo la squadra di La Terza spegne ogni veleità offensiva dell'Otranto e al quarantaduesimo potrebbe raddoppiare quando su angolo di Amodio Anglani si ritrova sui piedi il pallone ma non riesce a dar forza al tiro permettendo la facile parata di Carroppo il primo tempo si chiude con il Fasano in vantaggio la ripresa si apre con l'Otranto in avanti siamo al quarantasettesimo punizione di Mancarella e girata al volo da dimenticare per Diarrà al cinquantesimo Ganci si avventa su un pallone vagante e ci prova dal limite ma il tiro è debole al cinquantaquattresimo angolo di Mancarella e colpo di testa di Buono salva sulla linea Corvino un minuto dopo ci prova Girardi dalla distanza con Carroppo che non è proprio perfetto si fa male Morga e al suo posto dentro Gennari il neo entrato al sessantaquattresimo si rivore il raddoppio quando lanciato da Amodio di piatto spedisce fuori clamorosamente sul ribaltamento di fronte l'Otranto a sfiorare il pareggio con Bolognese che scivola al momento del tiro con gli ospiti che reclamano un calcio di rigore per un atterramento di palazzo nell'area piccola al sessantanuesimo sfortunato Gennari che supera a Buono e con un colpo sotto anche Carroppo ma il palo gli nega la gioia del gol all'ottantesimo perfetto cross di Pugliese ma la girata di testa di Gennari si spegne sul fondo ancora Gennari protagonista all'ottantasettesimo quando ruba palla in aria ma invece di calciare in porta sceglie la soluzione altruistica passando a Palma che però è in ritardo gol mancato gol subito regola non scritta del calcio sempre attuale ed ecco arrivare il pari dell'Otranto angolo di Villani e perfetto colpo di testa di Citto nel sette dove Pellegrino non sarebbe mai potuto arrivare inutile il forcing finale dei fasanesi finisce uno a uno tra tanti rimpianti passiamo all'ampia pagina dedicata al calcio a 5 in particolare partiamo dalla serie A dove la Luparense perde a Pescara e perde anche la vetta che adesso resta solamente del Kame Dosson buon pari invece per il Cisternino contro Reggio Emilia vediamo nel dettaglio i risultati e la classifica del nono turno Cisternino Caos Reggio Emilia 2 a 2 Kame Dosson I Cifuzal 8 a 4 Feldieboli Latina 3 a 3 Lazio Acqua e Sapone 2 a 5 Napoli Calcio a 5 Pesaro 6 a 5 Milano Calcio a 5 Real Rieti 2 a 6 Pescara Luparense 4 a 2 in classifica guida il Kame Dosson con 22 punti Luparense 19 Acqua e Sapone 18 Pescara 17 Napoli Calcio a 5 15 Latina 14 Real Rieti 12 Assieme a Caos Reggio Emilia Cisternino e Pesaro Lazio e Milano 7 Feldie Eboli 6 Chiude Lice Fuzzal con 5 punti Il servizio di Cisternino Caos Reggio Emilia cura di Antonio Porro Divertimento emozioni né vincitori né vinti nell'anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A la Blockstam Cisternino impatta 2-2 al Palau Aitila contro un coriaceo e combattivo Caos Reggio Emilia una gara nel segno dell'equilibrio che permette alle due formazioni di salire a braccetto a quota 12 punti per continuare a sognare l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia La prima fiammata arriva sul finire della prima frazione Avellino da falo laterale Pesca Dudu Costa che a pochi passi dalla porta trafigge l'incolpevole Micoli Pronta la risposta della formazione di Piero Basile che prima del riposo colpisce su schema d'angolo con Fabinho 1-1 all'intervallo Nella ripresa il Cisternino prova a fare la gara ma è il caos a trovare il nuovo sorpasso con il brasiliano Kakà che su schema d'angolo lascia partire un bolide imprendibile per il portiere Cistranese La rete del definitivo 2-2 porta ancora una volta la firma di Fabinho che da banda sinistra infila Moliterno con un perfetto mancino Finisce tra gli applausi convinti del tifo giallorosso lunedì prossimo la formazione di Basile sarà impegnata nel posticipo sull'ostico campo dell'Ital Service Pesaro Fano Passiamo alla Serie A2 dove nella sesta giornata il Meritime Augusta batte il meta e consolida la vetta della classifica brutta sconfitta per il futsal Biceglie contro il Lido di Ostia hanno riposato Salinis e Cristian Barletta vediamo nel dettaglio i risultati e la classifica del sesto turno Ciampino Odissea 2007 a 6 futsal Biceglie Lido di Ostia 0 a 3 meta Meritime Augusta 2 a 3 San Michele Noicattaro 2 a 2 hanno riposato Salinis e Cristian Barletta in classifica guida il Meritime Augusta con 15 punti meta 10 Ciampino 9 San Michele 7 Salinis 6 Lido di Ostia 5 Futsal Biceglie Cristian Barletta Odissea 2004 punti chiude il Noicattaro con 3 punti Il servizio di Futsal Biceglie Lido di Ostia a cura di Mario Borracino Il Futsal Biceglie gioca e costruisce palle e gol Lido di Ostia invece segna e vince la partita niente bis di successi dunque per il quintetto di Leopoldo Capurso dopo la convincente affermazione nel derby con la Salinis vince 3 a 0 sul parquet del Palladolme il quintetto laziale cinico e spietato al momento della finalizzazione organizzato e coriaceo in fase difensiva partita di difficile interpretazione al definitivo suono della sirena risultato finale sicuramente ingeneroso per i padroni di casa che dominano la scena sul piano del gioco nel corso della frazione inaugurale ma non sanno incidere quando c'è da completare l'opera Il Futsal Biceglie sfiora il vantaggio in tre circostanze nei primi sette minuti poi rischia due volte a metà frazione barra impegna Taibi il portiere dei pugliesi Fred si prepara a colpire a botta sicura ma De Nero lo anticipa al momento della battuta pericolosissimi padroni di casa in chiusura di frazione il palo centrato con un bolide da Lucas Barroni il parziale ad ogni modo resta inchiodato sullo 0-0 sino all'intervallo il match cambia volto in avvio di ripresa Taibi abbandona la propria porta per provare a colpire in attacco ma senza effetti positivi ne esce al contrario una ripartenza dei laziali che si conclude con la parata di Bavaresco costretto ad immolarsi nella circostanza inevitabile il cartellino rosso il calcio di rigore dal dischetto però Taibi ipnotizza Fred e salva i suoi arriva ugualmente pochi secondi dopo in ogni caso il gol del vantaggio del Lido di Ostia che va a segno con lo stesso Fred in superiorità numerica cambia l'inerza psicologica del match gli ospiti volano sulle ali dell'entusiasmo e raddoppiano un minuto più tardi con Barra ci mette un po' di tempo il Biceglie per assorbire il doppio schiaffo poi è di nuovo sfortunato quando a sette minuti dal termine Gabriel colpisce il secondo legno di giornata e successivamente Denner non riesce a dimezzare lo svantaggio in più di una circostanza nel finale Anzi è ancora Lido di Ostia a trovare la via del gol con lo scatenato Fred finisce così 3-0 per i laziali 4 punti in altre tante partite giocate per il Futsal Biceglie di scena sabato prossimo ad Augusta contro la capolista a punteggio pieno Maritime Chiudiamo con la serie C1 dove le Aquile e Molfetta continuano a mantenere la vetta della classifica male la Futsal Andrea che perde a palo del colle bene l'Eraclio calcio a 5 vediamo nel dettaglio i risultati e la classifica del dodicesimo turno Diaz, Biceglie e Latiano 4-0 palo del colle Futsal Andrea 4-1 Eraclio calcio a 5 Stuni 3-1 Castellaneta Futsal Bat 5-3 Just Mola Putignano 8-0 Neapolis Futsal Brindisi 3-4 Pellegrino calcio a 5 Aquile e Molfetta 3-7 Futsal Salapia Polisportiva Adelfia 1-1 in classifica guidano le Aquile e Molfetta con 31 punti Adelfia Eraclio calcio a 5 25 Palo del colle Salapia 22 Diaz Biceglie 21 Latiano 20 Futsal Bat Ostuni 18 Futsal Brindisi 17 Futsal Andrea 14 Gest Mola 11 Neapolis 8 Castellaneta 7 Pellegrino 6 CSG Putignano 5 punti E con questo è tutto Grazie per l'attenzione Arrivederci alla prossima settimana con i risultati e le classifiche di News24 e Telesveva sul canale 17 e a a Autore dei sorrisi